Vieni a visitarci su www.sicilainformazioni.com Ovunque, in tempo reale Siamo all'Enoteca Picone di Palermo ed è con noi l'enologo Rossella Marino Abate che ci racconterà della seconda tappa della degustazione l'esame olfattivo. Di che si tratta, Rossella? L'esame olfattivo consiste nel far rotere il bicchiere e annusare Da cosa sono determinate le differenze nei profumi dei diversi vini? Le sostanze odorose hanno diversa origine primaria, secondaria e terziaria I profumi primari derivano dall'uva I profumi secondari dalla fermentazione e quelli terziari si formano con il passare del tempo Nell'ambito, per esempio, di due diversi vitigni tipo quello che abbiamo qua, cioè Nero d'Avola e Cabernet Sauvignon Allora, il Nero d'Avola ha un gusto speziato fruttato di ciliegia, bacca rossa invece il Cabernet ha dei sentori vegetali di foglia di pomodoro Grazie mille! Grazie mille!